Se nessuno vi chiamava in piazza facevate fatica a andarci, questo riguarda anche le parti politiche da cui veniamo. Due, che c'è molta più gente di quello che credevamo, che ha voglia di una politica non urlata, che non inciti all'odio, alla rabbia, al rancore, che non insulta, che sia un po' più educata. Se guardate, quando io ho deciso di fare il 7 dicembre piazza maggiore, tutti quelli a cui lo dicevano, dicevano, tete mar.